30 novembre 1831 Nasce a Padova Ippolito Nievo, scrittore e patriota italiano. Giovanissimo, rimane colpito dagli ideali mazziniani e nel 1848 partecipa al fallito moto di insurrezione di Mantua. Accanto all'impegno politico, consolida la passione per la letteratura, collabora la rivista Il Caffè e scrive la raccolta Versi, il dramma Gli ultimi giorni di Galileo e Le confessioni di un italiano, il suo capolavoro, che verrà pubblicato postumo nel 1867. Il 5 maggio del 1860 salpa da quarto insieme alle truppe garibaldine. Per il naufragio della nave muore il 4 marzo 1861.